Benvenuti in mostra. Stiamo per compiere un salto nel tempo. Vi racconteremo storie di donne bellissime e amate, di donne che per la prima volta hanno un potere immenso nel campo dell'arte, di donne che passano in volo l'oceano o diventano gatto, di gioielli, di abiti di Jais, di che cos'è il realismo magico, ma anche di sogni, aspirazioni, vendette, di soldati tornati dal fronte delle battaglie più tragiche della prima guerra mondiale, di un uomo bellissimo, coi capelli castani e gli occhi grigi, che con il suo sguardo ci accompagnerà attraverso questo viaggio prodigioso e sorprendente. Il nostro percorso inizia qui, in un corridoio scuro, perché stiamo per giungere in un giardino di potenti incantesimi, in una primavera delle arti dove tutto fiorisce, di colori luminosi e di bagliori dorati. Ci sono principesse là ad aspettarci e preghiere, ma anche donne valorose che sanno compiere gesti terribili. Quando il 22 aprile 1910 inaugura la Nona Biennale di Venezia, una sala rivela la pittura di Gustav Klimt, tra quei dipinti spicca Giuditta, bellissima come un idolo. La Giuditta di Klimt tiene ancora la testa di Oloferne, stringendola per i capelli, macabro trofeo, quasi indistinguibile dal parato di fiori e di arabeschi dorati che percorrono l'opera come una scrittura orientale. Anche la forma del quadro è estremamente originale. Assomiglia a un mono c'è un dipinto giapponese che si appende alla parete dopo averlo srotolato. Quell'effetto stranissimo dei decori sull'abito, che diventano poi parte dello sfondo e poi ancora dei capelli, viene suggerito a Klimt dai mosaici visti a Ravenna e a Venezia. Dopo che hanno scoperto le sue opere alla Biennale di Venezia, lo riprendono in modi differenti Vittorio Zecchin e Felice Casorati. Vittorio Zecchin, nei pannelli del ciclo delle Mille e una Notte, immagina un corteo di principesse tra boschi profumati e cespugli in fiore, come in una favola orientale dove tutto è punteggiato di pulviscolo d'oro. Zecchin è figlio di un creatore di vetri di Murano e su quell'isola apre anche un laboratorio tessile dove sono tutte ragazze a ricamare e a creare arazzi, come quello rosa qui in mostra. Qui c'è anche una sua opera speciale, la delicatissima Coppa delle Vestali, le sacerdotesse di vesta che portano in processione dei cuori fiammeggianti. Anche questa ha uno sfondo decorato effetto mosaico e viene da un luogo speciale, il Vittoriale degli Italiani, la casa di Gabriele d'Annunzio, per ricordare che Venezia è stata anche teatro di amori ardenti, come quello tra lui e la famosa attrice Eleonora Duse, alla quale è appartenuto il vestito qui a sinistra. È una tunica di seta creata dal pittore spagnolo Mariano Fortuni e da sua moglie Henriette proprio in quegli stessi anni nel loro palazzo veneziano dove hanno un atelier di moda e pensano a come recuperare motivi antichi come questo e rinascimentali. Anche Felice Casoratti guarda l'effetto dei bagliori clemtiani nella preghiera che è dipinta su velluto e mostra un ortus conclusus, c'è un giardino segreto e proibito agli occhi degli estranei e nei tessuti trasparenti come velari del notturno a fianco. Ma c'è un altro ragazzo che esordisce con loro alle mostre di giovani artisti che si tengono a Capesaro. Oppi manda a Venezia questi disegni di nudi sinuosi finché a Parigi e si vede che vengono da quell'esperienza. Ricordano le figurine sui prati della danza o della musica di Matisse o altri amanti allacciati disegnati da Picasso. Ricordano certe stanze dipinte da Suzanne Valadon, modella tra gli altri di Renoir e di Degas e a sua volta pittrice. Le mostre di Capesaro dunque sono la fucina di una nuova generazione di artisti e Venezia è una città in cui tutto può accadere, anche che l'eccentrica marchesa Luisa Casati prenda a casa Palazzo Venier dei Leoni dove oggi è la collezione Peggy Guggenheim e ospiti feste straordinarie. Ma camminiamo avanti e andiamo dritti a Parigi. Oppi a Parigi dalla fine del 1911. Gli è morto il padre e le sue condizioni economiche ora sono molto difficili ma scrive alla madre che non può rinunciare al suo destino. Il suo lascia passare per la Ville Lumière è un invito a presentarsi al pittore Gino Severini da parte di Filippo Tommaso Marinetti, il capo dei futuristi. Gino Severini li frequenta già tutti, Picasso, Georges Braque, Modigliani, Raoul Dufy. Con Picasso anzi si incontra ogni sera alla Brasserie dell'Hermitage dove il catalano va con la sua amata Fernando Olivier e una coppia di altri amici. Quel locale dotato di orchestra e teatro di un dramma nella primavera estate del 1912 che lo stesso Severini si incolpa di aver involontariamente causato. Nelle sue memorie scrive che Oppi era simpatico, intelligente e bello che fu subito sedotto dalla vita parigina ma purtroppo anche dalla bella Fernand che era un po' civetta. Fatto sta che Picasso se ne accorse e la cacciò e lei andò ad abitare per un po' nello studio di Oppi che stava al Bateau Lavoir, l'edificio dove hanno avuto studio gli artisti più famosi di Montmartre. La passione di questo amore proibito è rivelata qui da un triangolo di opere e un incrocio di sguardi. La bella Fernando Olivier, così amante dei cappellini, è modella di artisti come Van Dongen di cui vedete questo ritratto molto espressionista con colori che paiono fuochi d'artificio e è fidanzata da otto anni con Picasso del quale abbiamo qui a fianco un piccolo ritratto che ce la mostra com'era. Eccola lì, la femmina rossa spedita da Oppi a Capesaro del 1913 insieme al suo autoritratto. È ovvio che è Fernando Olivier. Le muse straniere francesi seducono anche altri colleghi di Oppi che esordiscono ugualmente a quelle mostre giovanili. Sulla destra trovate la piccola russa di Mario Cavalieri che era stata esposta alla Biennale di Venezia del 1914 in una sala importante decorata con grandi pannelli da Galileo Chini. Nel modo di dipingere il tavolino di questo interno borghese torna il magnetico decorativismo clintiano ma reso con pennellate dense molto espressioniste mentre la ragazza e il cagnolino paiono presenze così vive. Come sono invece affilati e spigolosi e forti i tratti del volto della donna di Gino Rossi e della scultura di Arturo Martini, l'amica del cipresso. Si vede che i due hanno assorbito le avanguardie francesi, la scomposizione dei piani del cubismo e l'influenza della scultura africana. Le immagini estenuate e nostalgiche di Umberto Moggioli che qui ritrae la moglie con un bellissimo nastro sui capelli e quelle di Ercole Sibellato e Ugo Valeri danno un addio agli anni più fulgidi di Capesaro che hanno segnato una svolta nelle loro carriere. Quella donna vestita di rosso che ci si para davanti con la mano guantata posata sul fianco è vestita da cavallerizza e pare un eco di un dipinto di Amedeo Modigliani che a Parigi aveva studio vicino a Oppi al bateau lavoir. Questa figura ha un viso strano, è un esperimento pointillist per ricreare con macchie di rosa, giallo e bianco l'effetto di come la luce riflette sui volti. Come si nota dall'abito, Oppi guarda sempre alla moda, fin da quando in quel negozio bellissimo che aveva suo padre che nei giornali del tempo si ricorda avesse una vetrina grande e lucente con l'insegna in oro, erano esposti modelli di scarpe e scarpine che facevano sospirare le signorine. Il pittore stesso rivelerà un critico che da bambino era stato ispirato a disegnare proprio dalle sagome di quelle scarpette e anche successivamente, come tanti altri artisti, guarderà i cartelloni che promuovono la pubblicità dei grandi magazzini o le copertine delle riviste. I paesaggi qui mostrano i cambiamenti dell'arte di Oppi. Il primo ha queste casette fatte di volumi sintetici che il potente critico Ugo Ietti, che dal 22 inizia a prenderlo sotto la sua protezione, scrive che paiono giocattoli, ma sono una ripercussione del cubismo e delle opere di André de Reyn, viste a Parigi, come i pioppi subito accanto. Mentre quell'albero incredibile che emerge dalle rocce è vicino alla pittura tedesca del tempo, che per la capacità di resa iperrealistica viene chiamata la nuova oggettività. In Italia, poi, i critici come Oietti insistono sul valore della tradizione della storia dell'arte italiana, indicano a modello pittori come Mantegna, Raffaello, Perugino, Leonardo da Vinci e ai loro paesaggi che si rifà anche Oppi in certe vedute, come nel paesaggio Cadorino che ci ricorda certi loro sfondi con colline e montagne. Ora, proseguendo, ci aspetta una sorpresa rara. È un'incisione di Picasso, raffigura una coppia di disperati che ha appena consumato un pasto frugale in un'osteria. Pur nella loro consunta magrezza e tristezza si abbracciano. È una di quelle incisioni del cosiddetto periodo blu, ovvero il periodo espressionista e di grande malinconia di Picasso, una di quelle che Fernando Olivier aveva visto ancora in realizzazione nello studio del compagno, la prima volta che vi era entrata, nel 1905. Assieme ad altre, l'editore Ambroise Vollard, nel 1913 le aveva raccolte e vendute in una cartella intitolata I saltimbanchi. E Oppi le aveva viste certamente. Tornato in Italia nel 1914 a causa della guerra, nell'atelier che ha affittato a Vicenza, si mette a realizzare delle opere di grande intensità che ne portano il ricordo. Sono amica al caffè, sole, oppure sorelle, le cui mani sottili sembrano compiere però gesti eloquenti. Qui di fronte abbiamo invece i profughi, che hanno perduto tutto nella prima guerra mondiale. Ubaldo Oppi viene arruolato nell'estate del 1915 come sottotenente e poi tenente nel battaglione alpino Monteberico, che ha subito vicende durissime sul Pasubio. Ha visto morire tutti i suoi compagni in pochi minuti di scontro. È stato ferito quattro volte e convalescente per un anno. Nell'offensiva austriaca del giugno del 1918, detta la battaglia del solstizio, viene fatto prigioniero e portato tre mesi a Mauthausen. Queste pitture difficili, con le figure scarne, ci mostrano che all'arte contemporanea non interessa affatto la bellezza di per sé. Per questo ci parla della verità e del presente. Vuole darci dei messaggi, colpirci nei sentimenti e creare anche turbamenti. Ci mostra dei dipinti che non devono necessariamente compiacerci, ma farci guardare alle cose con più profondità e pensare. Come il chirurgo, qui, appena oltre, ritto su un pavimento che pare uno di quei dipinti di Piero della Francesca, in cui tutto è ripreso con una precisione dei dettagli vicina a quella pittura tedesca di cui dicevamo prima, così iperrealista da diventare disturbante. In realtà è anche un simbolo. Il chirurgo è così abile nel suo lavoro come lo deve essere il pittore col pennello. È questo il messaggio nascosto. A Milano, Margherita Sarfatti e il gallerista Lino Pesaro, fin dal 1919, cercano di prendere sotto la loro influenza dei giovani artisti, che nel 1922 si definiscono i sette pittori del Novecento. Sono Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Mario Sironi e Ubaldo Oppi, che è tornato da Parigi nell'autunno del 1921 e si è stabilito proprio a Milano. In quel settembre, infatti, ha sposato la sua amata Adele Leone, che in alcuni ritratti, lasciando cadere un indizio d'amore, soprannomina Deli, scrivendo nel nome a grandi lettere su libri o spartiti di musica, visto che lei è musicista, oltre che pittrice dilettante, e tiene un salotto molto apprezzato. Notate com'è interessante, con quei grandi occhi chiari, questa giovane ragazza sentimentale, come torna il pavimento a scacchi e come la finestra sullo sfondo, che ci mostra un incastro di volumi di edifici come in Giotto, pare essa stessa un quadro nel quadro. Oppi è davvero sempre un poco diverso dai suoi colleghi, si vede qui, come ha guardato la pittura tedesca di cui dicevamo anche prima, e i primitivi italiani. Il sogno di Margherita Sarfatti è quello di radunare gli artisti più interessanti e promuovere l'arte italiana, dando avvio a un nuovo rinascimento. Incoraggia dunque i suoi pittori a inventare una classicità moderna, ad applicare le regole tradizionali del mestiere del pittore, a creare una sintesi di volumi e della composizione che si assumino a precisione della linea, colore sobrio, semplificazione delle forme. Il cambiamento nell'arte di questi pittori si vede nei ritratti di donne qui vicine, come avviene tra la metà degli anni 10 e la metà dei 20. Vediamo a confronto la donna col cappello dalla grande piuma bianca di Gianni Emilio Malerba del 1914, col grande paravento fiorato sullo sfondo, e la toilette di Piero Marussig del 1915, ancora così intimiste e rese con pennellate morbide. E già la bigia, la sorella di Anselmo Bucci, che regge in mano una rosa gialla, che diventa più corposa e vera nei tratti del volto e di quell'ampia pelliccia. Di fronte abbiamo Salietti, che pure poi si avvicina al gruppo detto anche del Novecento italiano, e Achille Funi, che ci mostrano qui volumi solidi e quell'impostazione classica che intendeva la Sarfatti. I ritratti hanno dietro di loro tendaggi e finestre come i ritratti rinascimentali, di cui hanno anche le pose. Margherita, la sorella di Funi, e la ciocciara di Salietti reggono delle mele, che non sono solo frutta, sono mele pitagoriche, cioè sono anche loro simboli nascosti. In questo momento è sorto un nuovo grande interesse per la filosofia di Platone, ma anche per gli studi di Vitruvio e Piero della Francesca, per le opere di Paolo Uccello e Dürer, su come arrivare alla perfezione nella riproduzione pittorica della realtà basandosi su teorie matematiche e applicando le regole della proporzione aurea. Le mele, che evocano anche quelle di Cézanne, il pittore impressionista per cui gli artisti più interessanti di questo momento hanno una certa venerazione, sono allora un indizio a qualcosa di volumetrico e perfetto che richiama quei concetti, come la brocca, che evoca la classicità greco-romana e etrusca. Entriamo ora in una sezione ampia, che è il cuore della mostra, e che intitoleremo Immaginazione, perché è una parola cara a colui che diventa ora la nostra guida, lo scrittore e critico d'arte Massimo Bontempelli, che ha composto dei racconti ambientati a Milano nei primi anni venti, proprio quando anche Oppi vive in quella grande città. È anche colui che in Italia usa per primo l'espressione realismo magico, per definire in letteratura e in arte quell'atmosfera vivida e stranita assieme. L'impressione di grande precisione nella resa delle figure e dei dettagli, ma anche una sorta di straniamento, come se le figure fossero realissime e insieme sospese, al punto che ci creano un certo turbamento, un sorprendente stupore, come avviene guardando le amiche dipinte da Ubaldo Oppi, qui, al centro di tutto. Come è magica quest'opera! Come cade in modo delicato la luce sulle braccia di queste donne che emergono dallo sfondo buio? È una raffigurazione iconica che ci pone delle domande misteriose. Che cosa si staranno dicendo le due amiche? Quale segreto ci nascondono? Perché sullo sfondo c'è una scultura di amazzone? Questa sorta di muta conversazione simboleggia da una parte l'eterno potere della seduzione del corpo femminile, che diventa come quello delle idee antiche, e dall'altra vuole suggerire l'indipendenza di queste donne nuove. Le amazzone, infatti, secondo la mitologia, erano un popolo di donne guerriere. La scultura dietro di loro è detta l'Amazzone Mattei, perché faceva parte delle collezioni di Villa Mattei a Roma ed è ora conservata ai Musei Vaticani, copia di un originale perduto di Fidia, realizzato in bronzo nella seconda metà del V secolo. Ma l'Amazzone è ferita e nell'atto di estrarre una freccia dalla faretra. È una presenza inquietante e protettiva assieme. Le amiche è un quadro che è stato presentato alla Biennale di Venezia del 1924, che è un epicentro importantissimo per le nostre vicende, perché è l'edizione in cui Oppi osa appunto staccarsi dal gruppo dei sette di Novecento e esporre da solo in una sala personale, grazie all'intervento di Ugo Ietti, che scrive in catalogo come siano delle figure di giovani donne atteggiate con grazia di statue. Talmente tanta è l'importanza di questa Biennale e la celebrità che Oppi ne ricava, così come le vendite e i riconoscimenti sulla stampa, che prenderemo tre opere di Oppi presenti a quella mostra, le amiche, la giovane sposa e le amazzoni, e scandiremo le prossime tre sezioni su queste, per constatare come certi temi e interessi culturali siano comuni anche agli altri artisti di quel periodo, ma ognuno li delinea in seconda una propria personalità. Le amiche sono dunque il marcatore di questa prima sezione. Abbiamo una parete dedicata all'idea che le amiche, essendo due e molto vicine, sebbene l'una sia bionda e l'altra scura, è come se fossero un doppio di se stesse. Abbiamo quindi un bellissimo disegno, con un doppio ritratto della moglie di Oppi, che pare un effetto di specchio. Questa idea del riflesso allo specchio si traduce nel realismo magico di due altri pittori veneti molto importanti. Cagnaccio di San Pietro a sinistra, con la donna allo specchio con lo sfondo di un blu vividissimo, e Bortolo Sacchi a destra, con la ragazza dalla collana azzurra. C'è poi la donna che regge lo specchio di Mario Sironi, la grande figura possente e come una venere antica che regge lo specchio, seduta in una stanza vuota, ma con alle spalle un basamento di reminescenza classica. Sulla parete di fronte abbiamo invece un altro tipo di doppio, in cui c'è la presenza di una scultura sullo sfondo. Quell'effetto che si materializza nelle amiche grazie alla collocazione della statua dell'amazone ferita, qui lo abbiamo nel triestino Carlos Bisà, che ha visto l'opera di Oppi e ne ripete l'effetto nel 1930, citando la stessa scultura sullo sfondo della stanza, in cui colloca all'opera la sua allieva preferita, la pensosa Felicita Frey, che sta tracciando un disegno perfetto, grazie al metro e all'ispirazione data dal poliedro appoggiato sulla scrivania. Allo stesso modo, un altro triestino, Edgardo Sambo, cita una copia del quattrocentesco ritratto di Eleonora d'Aragona, di Francesco Laurana, tra le sue modelle. Tornando indietro, troviamo proprio le amiche vere, come l'amica geniale o l'amica preferita, a cui si possono confidare i segreti, quelle che fanno la lezione di mandolino, che si stringono per mano nel cortile, come nell'opera del visionario trentino Tullio Garbari, intitolata La corte delle colombe, o le vicine di casa che parlano sulle scale di Antonio Donghi, un altro esponente strepitoso del realismo magico, ma di aria romana. Il grandissimo quadro di Massimo Campigli riprende l'idea del doppio delle amiche con delle donne in riva al mare, in un tempo però astratto che diventa quasi memoria archeologica. Il gesto triangolare del braccio alzato, dell'amazzone che sfila la freccia dalla faretra, qui si trasforma in quello di coprirsi gli occhi dal sole. Continuiamo ed entriamo nella sezione della donna moderna, che è ispirata al ritratto della giovane sposa, cioè alla moglie di Oppi, sempre presente a quella biennale del 1924. Pensate a cosa dovevano essere gli anni venti a Milano. La città più moderna d'Italia, coi tram, i caffè e le pasticcerie piene di luci e di colori, i cristalli delle vetrine di lusso come il bar cova, dove con i capelli sciolti si balla il foxtrot e le signore mangiano pasticcini, tartine e marron glacé. Ce lo racconta Bontempelli, come fosse stato mesmerizzato da quelle visioni al ritorno dall'armistizio, quando si è trovato a girare per la città, respirando la vita. Quanto gli era piaciuto quel calidoscopio di novità e che impressione gli avevano fatto quelle donne moderne che camminavano morbidamente e erano delle vere e proprie apparizioni, con le calze leggere e la pelliccia. E a portare collo e polsi in pelliccia è proprio, qui poco più avanti, la giovinetta con la frangetta sullo sfondo verde dipinta da Gian Emilio Malerba. E di fronte a noi ecco allora una sfilata di abiti meravigliosi. Sono veri, rarissimi abiti degli anni venti, appartenuti a donne reali e dunque sono stati davvero alle feste in occasioni speciali, hanno vissuto gli amori e le piccole disperazioni delle loro proprietarie, sono stati chissà dove e ora sono qui con noi, in tutta la loro delicatezza, di sete e di chiffon, con perline jaisse e inserti colorati. Di queste donne modernissime, nella realtà, fanno parte anche l'americana Amelia Earhart, che è la prima donna a sorvolare in aereo l'oceano atlantico nel 1928, e l'artista futurista Wanda Wulz, figlia di un fotografo trestino e modella, ma a sua volta fotografa, qui ritratta dalla sorella intenuta da motociclista, a sfidare tutte le convenzioni maschili. Nella sezione di quelle donne misteriose e un po' esotiche, come la signora con l'ampio mantello e dagli occhi magnetici dipinta da Bortolosacchi, la quale avanza nel silenzio di Venezia, senza paura di mostrarsi sola. Le donne moderne vanno anche in villeggiatura e qui di fronte indossano costumi come il vestito tradizionale ampezzano, con la gonna ricca di ricami della ragazza cadorina ritratta da Ubaldo Oppi, o uno scialle, che diventa una sciabolata di colori nella successiva figura femminile di profilo. L'amore per l'arte del passato fa sì che sua sorella Laura, dal bellissimo anello, pur nella semplicità di un abito nero, sia posta su una poltrona, trasfigurata come una dama del rinascimento, poggiata a un tessuto damascato, la cui resa è un virtuosismo estremo. Approfittiamone per vedere da vicino quanto è bello il ritratto della moglie di profilo, con i capelli corti e vestita di rosa, e quanto magnetico è il successivo ritratto della moglie con lo sfondo di Venezia, che è stato esposto al Salon d'Autom di Parigi nel 1922. Era davvero così Adele Leone, una donna vivace alla moda, che questi vestiti magnifici li possedeva davvero, come questo in cui lei sembra un personaggio del Cinquecento o un dipinto di Vittore Carpaccio. Attenzione, che ora ci stiamo inoltrando in una zona selvatica e mitica. È la zona governata dalle amazzoni di Oppi. È la nostra terza opera faro di quella biennale del 24. Le tre donne posano languide su pelli di tigre, simbolo di selvatichezza e di potere. Una di loro è appoggiata a un bastone, perché pare lo impiegassero per saltare sul dorso dei loro cavalli, pronte a scatenare la guerra contro gli uomini, per difendersene se ne venisse l'occorrenza. Ci sono invece le amazzoni di Arturo Martini, che scappano via con i capelli spaventati. Come sono affascinanti con questi piccoli corpi di gesso. Si sente la forza creativa del pittore che le ha modellate. Chissà da quali grandi timori sono spaventate. Forse lo sono anche dalla morte di una di loro, che vedete qui, portata sul cavallo dalla compagna. Le donne degli anni venti, da una parte aspirano alla contemporaneità assoluta, dall'altra parte vengono anche interpretate dagli artisti come una sorta di divinità o di figure mitologiche. Se guardate il grande e meraviglioso dipinto di Felice Casorati, il concerto, ci mostra delle donne dai nudi così sublimati da parere le muse della tradizione classica. Ma il fulcro visivo di tutto è la graziosa fanciulla con il nastro rosso nei capelli, che suona la chitarra. Segretamente, in questa mostra, è nascosta tanta musica. Qui ci sono le fanciulle che suonano, la moglie di Oppia è una musicista, prima c'era la lezione di musica e poco più avanti avremo i pescatori che cantano. La musica è un messaggio segreto, nascosto nei dipinti di quest'epoca, che sta a significare un richiamo alla scala pitagorica, impiegata nella musica antica e dunque ancora alla ricerca ideale della perfezione. Anche quest'opera è stata la biennale del 1924 e Oppia e Casorati sono stati gli artisti più esaltati sulla stampa dell'epoca. Stanno cambiando i modi con cui le donne vengono raffigurate, perché in quegli anni sorge un grande interesse per l'arte del 600, di cui è promotore anche Ugo Ietti. Questo grande telero di felice carena a sinistra, un po' sembra un Gauguin, un po' un quadro del 600, accompagnato dalle nature morte che campeggiano nel lato basso, è infatti una specie di Eden e si intitola La Quiete. Le donne sanno trasmutarsi anche in presenze ferine. Ecco di nuovo Van der Wulz che si ritrae e poi fa la foto al suo gatto e poi diventa io più gatto in un fotomontaggio. O le donne cacciatrici di Gioponti che come adepte della Dea Diana catturano le prede o si librano come venere avvolte da nastri su elementi di architettura. Gioponti nel 1925 vince il Gran Premio all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative Industriali Moderne di Parigi e Oppi consegue la medaglia d'argento al premio Carnegie a Pittsburgh, che al tempo era il premio più prestigioso e più cospicuo del mondo, dimostrando come la sua carriera si è lanciata i più grandi successi. Se tornando alla parete di fronte le donne del mito possono sembrare delle sorte di sirene che attirano i marinai seducendoli al porto come la figlia del pescatore nel grande quadro di Pompeo Borra o ricordano il mito di Leda il cigno in Anselmo Bucci la realtà quotidiana è ben diversa. Gli anni venti sono molto difficili e le donne sono anche contadine o pastore come queste donne corpose reali in Tullio Garbari che è amico fraterno di Oppi fin dalle mostre di Capesaro e lo sosterrà nei momenti più difficili anche in un suo riavvicinamento alla religione cattolica sul finire degli anni venti. Di fronte stanno due differenti versioni dello stesso tema, il cieco, un quadro complesso e molto importante dove ritorna la capacità di Oppi di ritrarre il vero in questa sorta di conversazione fatta di gesti e di cui le donne sono le protagoniste principali. Guardate le mani e come tutto emani sentimenti di compassione e struggimento. Nei pescatori che cantano tutto vive di gesti, quello della donna che volge il viso al cielo, quello del ragazzino in primo piano che porge un pescetto al bambino nudo che sembra un Gesù bambino, gli uomini che suonano la chitarra sulla destra. Vicino ai pescatori si staglia un quadro enorme, è l'alzaia di Cagnaccio di San Pietro e raffigura degli uomini che compiendo un lavoro bestiale trascinano le barche lungo un tratto di banchina grazie a un grosso cavo di fune. Siamo proprio in quella corrente detta del realismo magico, tutto è come sospeso, irreale, tranne il loro sforzo enorme e inimmaginabile. Ci inoltriamo infine nell'ultima sezione, una sezione di gloria e smarrimento. Oppi viene invitato alla prima mostra del novecento italiano nel 1926, è un'esposizione che si tiene a Milano al Palazzo della Permanente e a cui Margherita Sarfatti invita i più noti artisti italiani. Oppi vi mostra delle opere molto intense, tra le sue più belle, come questo nudo con la figlia di Iefte. In quell'occasione Oppi è colpito da una vendetta miserabile, provocata da un'associazione di pittorastri milanesi che lo trascina nello scandalo, con l'accusa di aver copiato due dei dipinti in mostra, tra cui Serra Romagnola, qui di fronte, presi dall'Etude Académique, un repertorio parigino di fotografie per artisti del primo novecento, con modelle messe in posa. Sebbene gli ammetta di averlo usato come suggerimento iniziale, essendo una pubblicazione che si trovava ovunque sui banchetti di libri vecchi lungo la Senna, cosa che non sminuisce la portata della sua arte, ne sorge un gran dibattito sulla stampa, che mira a ridimensionare le capacità di chi non impiega la modella dal vero. Come potete osservare, la figura femminile oramai è raffigurata dai pittori con forme più voluminose, anche se le giadre, come nella venere addormentata di Marussig, che riprende la venere di Urbino di Tiziano. Qualcosa si è spezzato nella vita di Oppi, anche se continua a essere presente a mostre importanti. In conseguenza il suo allontanamento dalla famiglia, che rimane a Milano, al mutamento della sua arte, che non incontra più il favore di Oietti, che era il suo mentore, alla sua estraneità rispetto alle commissioni pubbliche, avviene in lui una sorta di smarrimento che lo relega progressivamente e lo estranea dal mondo negli ultimi anni della sua vita a Vicenza, dove ritorna dai primi anni trenta e dove si dedica a committenze sacre o a ritratti su commissione. Di quel disorientamento finale di Ubaldo Oppi, di un periodo trascorso in difficoltà, seppure sostenuto dagli amici, prima di morire a soli 53 anni di malattia, rimangono l'Adamo ed Eva, in cui, pur dopo la cacciata dal paradiso terrestre, Eva si erge stringendo in mano la mela, ancora capace di sorreggere la speranza e di guardare lontano, lei che ha voluto avere il dono terribile di conoscere la verità. E rimane anche Adriatico, con tre donne alla deriva in una barca, nel mare in tempesta. L'arcano segreto nascosto in queste figure, che in parte ricordano la posa della figura sdraiata nel baccanale degli Andri di Tiziano, ma anche la bella di Giove Antiope di Ingres. Forse è un dipinto del Cinquecento di Jacopo Palma il Vecchio e Paris Bordone, La tempesta di mare. Ma forse sta in un richiamo a un libro di Emile Zola, l'opera, in cui il protagonista, il pittore Claude Lentier, si impicca davanti a un quadro incompiuto, rafficurante tre donne nude in barca, a cui ha lavorato ossessivamente trascurando la moglie, come forse Hopi sente di aver fatto. L'artista francese Antoine Watteau, esponente della pittura Rococò, dipinse un famoso quadro nel 1717 intitolato L'imbarco per Citera, un'isola di delizie che aspetta gli amanti. Ma guardandolo ci si domanda sempre se quelle figurette stanno partendo o sono invece piuttosto già sbarcate a Citera. Anche Adriatico è un'allegoria. Le donne sono fuggite dall'orizzonte degli anni 30 e il mare in burrasca è quel tempo difficile che sta sopraggiungendo con i venti di guerra all'orizzonte, o non sono piuttosto sul punto di approdare. Il loro forse è un viaggio misterioso che anche nel più cupo dei momenti quando i flutti potrebbero far paura porta miraggi, sogni e desideri di future felicità. Grazie a tutti.